Speriamo anche di riuscire a dargli un funerale degno di com'era la persona, ecco, tutto là. E com'era la persona? Persona squisita, amico di tutti, buono, sì sì, persona fantastica. Tezze di Vazzola si prepara per l'ultimo saluto ad Alberto Rizzotto, l'autista morto nella strage del bus il 3 ottobre scorso a Mestre. I funerali si svolgeranno martedì pomeriggio alle 15.30 nella chiesa parrocchiale in Piazza dei Tigli a ufficiarla con altri concelebranti, il parroco Don Alberto Basso. Da queste parti tutti conoscevano e volevano bene a Rizzotto sul corpo del quale è stata effettuata l'autopsia. Secondo prime indiscrezioni sembrerebbe esclusa l'ipotesi del malore, ma all'appello manca ancora il riscontro principale, ovvero l'esito degli accertamenti cardiologici particolarmente delicati e complessi. Questo uno dei punti principali, ancora tutto da verificare. In via dei Zacchi, dove il quarantenne viveva, i genitori Luigi e Mariadele restano chiusi nel loro dolore. Ma le indagini proseguono su tutti i fronti. In attesa della maxiperizia su Garreile, strada, l'avvocato Massimo Malipiero, legale dell'amministratore delegato della società del bus, chiarisce come al momento non siano stati rilevati anomalie o guasti al mezzo. L'unica buona notizia sono le dimissioni, nelle scorse ore, di uno dei feriti ricoverati a Mestre, un 39enne di origine ucraine. Per un'altra paziente, una 27enne tedesca, è previsto il trasferimento in Germania nei prossimi giorni. E una parola sola riecheggia a Vazzola così come ovunque. Verità. Presumo che come me siamo in tanti che cerchiamo di capire cosa effettivamente è successo. Tutto l'altra.